Oroscopo segni di fuoco, previsioni di domani, 19 aprile, di Paolo Fox. Come sarà il preludio al weekend secondo Paolo Fox e le sue previsioni dell'oroscopo di domani? Scopriamolo con i segni di fuoco. Ariete, potrebbero ricevere una sorpresa in più soprattutto il giorno di Pasqua. Purtroppo dovranno attendere il prossimo anno per le conferme e i lavori a tempo indeterminato. Per ora potranno accontentarsi di vincere una piccola sfida.Leone, sarà una giornata decisamente interessante grazie a Mercurio e Giove favorevoli. I giochi saranno rimessi in gioco tra domani e sabato. Può fare dei progetti importanti chi sta insieme da tanto tempo a un'altra persona. Sagittario, potranno recuperare energia e passione amorosa soprattutto durante il weekend. Venere in ottimo aspetto unita a Giove daranno una grossa mano negli incontri.Previsioni Paolo Fox di domani, 19 aprile, oroscopo dei segni di acqua. Si prosegue dunque con i segni di acqua secondo l'oroscopo di domani di Paolo Fox, 19 aprile, quest'ultimo ha anche svelato le previsioni di oggi ai fatti vostri. Cancro, l'oroscopo di domani sarà molto positivo. L'amore si farà più intrigante. Paolo Fox consiglia di capire al più presto cosa vogliono e soprattutto chi vogliono accanto. Sul lavoro c'è solo dei blocchi da superare.Scorpione, dal punto di vista fisico stanno decisamente meglio. Stanno risalendo la china dopo due anni davvero impegnativi. Devono pensare solo al presente e al futuro. Pesci, i sentimenti si risvelleranno anche grazie alla luna favorevole. Nel lavoro e nello studio è necessario impegnarsi davvero molto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Paolo Fox segni di aria, oroscopo di domani, venerdì 19 aprile.E i segni di aria come vivranno la giornata di domani secondo l'oroscopo di venerdì 19 aprile di Paolo Fox. Gemelli, fortuna negli incontri, forse nel fine settimana potrebbero incontrare una persona giusta per loro. Necessitano di conferme in amore. Ci saranno dei vantaggi tra sabato e domenica.Bilancia, potranno finalmente accantonare il lavoro per pensare un po' a se stessi e soprattutto all'amore che lango e inerme da un po' di tempo. Le coppie in crisi saranno messe a dura prova.Acquario, saranno chiamati a risolvere alcune criticità professionali. Da sabato tornerà a venere in ottimo aspetto.Zodiaco segni di terra, 19 aprile, oroscopo di domani di Paolo Fox. Infine l'astrologo per eccellenza svela l'oroscopo dei segni di terra secondo le previsioni di domani di Paolo Fox. Toro, il consiglio è quello di trascorrere in maniera serena il fine settimana. Il giorno di Pasqua è meglio trascorrerlo senza conflitti e senza litigi inutili. Meglio allontanare le persone che non li fanno stare bene.Vergine, potrebbero aver voglia di evadere e di viaggiare. Favoriti gli incontri soprattutto nel fine settimana. Entro l'estate potranno portare a termine un progetto importante. Capricorno, sarà una Pasqua davvero diversa dalle altre. Si sentiranno forti e daranno forza soprattutto alla famiglia che ultimamente ha subito un duro colpo. Io euronlinechoiceslogo.mattino5. Stefano De Martino e Belen in dolce attesa. Belen Rodriguez sarebbe in Iscriviti per non perdere le novità. Grazie per il like. Grazie per la visione.